In Abruzzo rispetto a ieri si registrano quattro nuovi casi di positività al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Con questo ulteriore incremento il totale nella nostra regione sale a 3.377. Non aumentano né i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, che restano 14, né quelli in terapia intensiva 1, mentre gli altri 91-3 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Nel numero di casi positivi sono compresi i 472 pazienti deceduti, anche questo numero invariato rispetto a ieri. 2799 sono i dimessi e i guariti, più 7 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.775 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 106, con una diminuzione di 3 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 127.417 test. Del totale dei casi positivi, 257 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 841 in provincia di Chieti, 1614 in provincia di Pescara, 638 in provincia di Teramo e 27 fuori regione.